Piedi per terra, lo slogan di Ezio Capuano è chiaro che più chiaro non si può. Il sogno della Serie B può essere coltivato, coccolato e accarezzato con tutto l'affetto possibile, ma i voli pindarici sono banditi e i proclami sguaiati sarebbero soltanto un esempio di masochistica spavalderia. Quella delle 2015-2016 sarà ancora, di nuovo, una squadra tosta e combattiva. L'obiettivo promozione però è un'altra cosa. Con Ferretti al comando, dice Capuano, l'Arezzo non fallirà mai e non avrà mai punti di penalizzazione. E non è poco. Ma quando il presidente parla di Serie B in due anni lo fa per un eccesso di entusiasmo, comprensibile e al tempo stesso un po' fuorviante. Dunque bisogna andare molto più sul concreto. Il budget complessivo non sarà diverso dall'anno scorso. L'Arezzo punta a rimanere di nuovo sotto i milioni di euro per i monti e ingaggi della squadra. Ecco perché Gambadori resterà ma non ha ancora firmato il rinnovo, nonostante la volontà delle parti sia di chiudere. Ecco perché Panariello in stand-by e se non si accontenta di un semplice ritocchino all'ingaggio dovrà salutare e accasarsi altrove. Ecco perché Capuano ripete come un mantra che il mercato non dovrà farlo con i soldi ma con le buone idee. Il che significa andare a caccia degli svincolati, come era il portiere Fortunato, già acquisito per la prossima stagione. Il che significa offrire quasi solo contratti annuali, come nel caso delle tifernate Calderini, puntando su motivazioni accessorie come le desiderie del giocatore di avvicinarsi a casa. Il che significa anche sfruttare i buoni rapporti con gli operatori di mercato per chiudere operazioni redditizie per tutti. È il caso di Caturano in scadenza di contratto a Melfi che potrebbe essere tesserato da un club di B e girato in prestito ad Arezzo. Capuano, dopo il vertice operativo a Roma della scorsa settimana, ha ben chiaro il quadro della situazione ed è per questo che oltre a un pizzico di indispensabile ottimismo sta spargendo a piene mani tanto sano realismo. E la grande promessa che faccio è la seguente. Non mangerò, non dormirò, viaggerò per tutta l'Italia ma costruirò una squadra importante. Vi do la mia parola d'onore.